Salerno era diventata una sorta di centrale operativa di smistamento di patenti nautiche abusive. È l'ipotesi accusatoria dalla quale dovranno difendersi un sotto ufficiale della Capitaneria di Porto di Salerno finito in carcere ed altre tre persone ritenute suoi contatti personali ora ai domiciliari, nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura di Salerno e dalla Capitaneria di Porto di Salerno che ha permesso di scoprire il rilascio di brevetti nautici acquistati grazie al pagamento di somme di denaro senza che i beneficiari sostenessero il relativo esame pratico e teorico per conseguire la patente nautica. Intercettazioni telefoniche ambientali, controlli, pedinamento di indagati hanno consentito di scoprire il sistema che ha portato oggi anche ad effettuare 70 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti indagati. Le perquisizioni hanno avuto come finalità la ricerca proprio delle patenti false ed altro materiale utile all'indagine. All'esito dell'inchiesta sono stati sequestrati titoli abilitativi falsi e anche denaro contante, un totale di 50.000 euro, ritenuto profitto del reato di corruzione. Secondo l'accusa, le patenti rilasciate su stampati autentici e registrate agli atti d'ufficio per far risultare regolare ad un primo controllo venivano consegnate a fronte di un pagamento da parte dell'acquirente finale per un prezzo che poteva variare intorno ai 2.000 euro a seconda degli intermediari ma anche dell'abilitazione da conseguire.